Eh, guarda quante case ci stanno, siamo in una cittadina Sì? Ole, aiutami! Fine, là c'è scritto fine Perché dovrebbe essere l'ultimo livello delle backrooms Ma ci stanno delle cassette Perché ci sono i computer E mi so che delle cassette dobbiamo metterle là Io non mi ricordo niente E i computer ci diranno come uscire da qui L'attiro, l'attiro, l'attiro L'attirata Ok, ok, io prendo le nastri Ma ti vuole essere Ole, aiutami! No Facile questo, facile, facile E' decisamente più facile Ah, qua, io l'attiro qui, eh Ok, vai Io sto prendendo tutte le videocassette Ok Bene, sta prendendo il sacco, eh Bene, bravo, bravo Prendo anche io L'attiro qui ancora Perché Oh Porca vacca L'abbiamo presa tutte, mi sa Eh sì Eh, mi sembrava troppo semplice Cosa c'è là? Eh, c'è ancora Devo andare a vedere io, mi sa C'è ancora l'attiro Cagni Ok, vai Ecco No Nasconditi 32 Ah, dobbiamo trovare un'altra roba da mettere Nel, oddio Dobbiamo Altre videocassette Non lo so Ma c'era scritto che dovevamo trovare qualcosa da mettere lì C'è la mia cassetta forse Ah sì Ah, funziona ora Ok Io guardo Cosa sta facendo? Non lo so Oh Oh Dobbiamo entrare? Entra, entra, entra Forse No Sì, sì Sì Madonna Oh Scala a chiocciola Aspetta, aspetta C'è un foglio Che c'è scritto? 94 È la scala a chiocciola infinita O apparentemente infinita Perché nessuno è mai riuscito ad andare in cima Ok E Al 94esimo piano dobbiamo buttarci giù Oddio che No, ma che brutto Pensa se sei qui davvero Ad un certo punto ti dicono di buttarti giù di sotto È terribile lo so È bruttissimo Va bene, questo sarà un livello divertente Pensa se cadi Cadi prima Questo mi ricorda un episodio di Henry Danger Dovevano andare a sconfiggere il crimine Però l'ascensore non funzionava e i tubi non funzionavano Quindi dovevano salire le scale, credo E vabbè 94 Non ci credo, madonna Ma stavo in me Ma non Vedi, te l'ho detto Te l'ho detto E play di quando l'ho detto Pensa se cadi Cadi prima 94 What? Aspetta 36 Oh, è 94 Corriamo Aspetta, aspetta Eh, forse è una falla, sì È una falla Ma guarda Che ci volevano far uccidere Ale 94 94 Madonna Ma non capisci la mia sensazione alla pancia Credo di non stare molto bene Oh, la mia testa mi fa male Ma chi se ne frega Io vado Vai Vai, vai Ma non ci avranno mai Dio mio Ma guarda che brutto Vabbè Adesso Matti Non mi interessa Quanta sofferenza tu abbia in questo momento Torna su Se devi ristratassimo Allora, cadi Bene, possiamo ristratare E ma il problema è che non è che siamo ad altro livello Oh Sì, siamo ad altro livello Ma non aveva senso Allora, non c'era bisogno che andava Sai cosa Adesso li siamo mutati dalla tante sede Secondo me se andavamo al 94esimo piano Ci uccidevano E dovevamo rifare il livello Secondo me era così Adesso sei proprio arrabbiato Guarda che camminata E qua tante case Allora, in sto livello non ci sono mostri E non mi ricordo se si può sentire nelle case Ma sono vuote Se non sbaglio Si può entrare nelle case Sì Che bella Sono manco vuote Anania Ci si può nascondere negli armadi Questo significa che mostri ci stanno Non lo so Ma io mi ricordo forse un livello tranquillo Eh, guarda quante case ci stanno Siamo in una cittadina Mi sa che dobbiamo andare in fondo alla strada a questo punto Io vado in quella casa Perché forse nelle case puoi trovare cose per la sede Eh, quello sì Vanno dei gelati? Che sta succedendo? Ale? Io ho una torcia Io no Credo No, Ale La torcia non funziona proprio niente Ma Ma che ci sono i mostri? Ma chi sono? Ma c'erano dei bambini Aspetta innanzitutto The inside of the channel Ah, ma c'erano dei bambini Aspetta Aspetta Time PM curve Scusami, Ale Dimmi Me lo potevi dire che c'era un cavolo di Quindi quando c'è la notte Arrivano sti bimbi qua E dobbiamo entrare nelle case Io voglio andare a prendere Guarda quante armi Marti, io ormai a tenere Ale è ora di andare via No, no, no Sono qua, sono qua Forse sentiamo la musica quando è giorno Beh, non sentiamo anche tutto Sto suono della notte Eh, ecco Bene Ecco Aspetta Adesso Possiamo Sì, è giorno Oddio Ma che è? Beh, sappiamo che è la via giusta Mi sembra una dimora Però è sospesa nell'aria Sembra Sì, appunto Infatti Questa canzone è molto, molto Giore Marti 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 corri Non vedo niente No, la sanità Sì Sì Porca No Marti Marti sono da me sti bambini Eh, lo vedo Sono sei pinocchi Oh, buongiorno Marti Che cavolo hai fatto No Marti Marti Ho sbagliato La sanità Oh no E ora Sto diventando buia Vabbè io Vado qua Non puoi perché si Ho detto Comunque ho visto Che sotto La struttura Ci sta tipo un filo Eh, ho visto E quindi Non so se c'è un errore Della skybox No, no Secondo me ci serve Per andare su Beh, dobbiamo Sì, sì, hai ragione Sì, sì Hai ragione Vai Dai, dai Siamo così arrivati Su, su No, è un Sì, è una corda È una corda È una corda Ok, poi mi ff Ok, f, ok F Sto salendo, eh Oddio Ah, sì Stiamo salendo Siamo nella struttura Dove siamo? Forse siamo in un circo Beh Ne vedremo delle belle Nel prossimo episodio Siamo in un circo